Festeggiamenti in onore di San Giuseppe. Questa sera alle 21 in piazza Cavour a Favara musical Noi, Voi e la Musica, giunta quest'anno alla sesta edizione, curato dalla scuola di canto Sirius, diretta da Rita Costa. Sul palco si esibiranno anche gli allievi di quattro scuole di danza, ovvero quelli della performance di Giovanna Di Maria, del corpo di ballo arabesque di Laura Di Maria, dell'associazione Fantasy Sport di Patrizia Laimo e del corpo di ballo di Valeria Costanza. Ospite di onore della serata Lidia Schillaci, direttamente dalla fiction di Canale 5 Non smettere di sognare mai. Ed intanto domani alle ore 21 e 30 in piazza Cavour parte la seconda edizione del concorso regionale Voci Nuova. Ospiti della serata di domani il gruppo Dennis All Band ed Ilaria Mongiovì di Ti lascia una canzone.